Perché tutto questo succede? Per questo. Allora, quanto petrolio c'è sul pianeta? Ho fatto prima due conticini. Ce n'è per 150.000 miliardi. Allora, secondo voi per 150.000 miliardi non diventa tutto sacrificabile? Ed è questo il motivo per cui questa gente ragiona come se fosse onnipotente. Qualunque cosa è permessa in nome di 150.000 miliardi. Attenzione al costo di 30 dollari al barile. Allora, questa gente dovrebbe venirci a spiegare perché se loro dicono che estrarre il petrolio costa 50 dollari al barile, lo tirano fuori anche se lo vendono a 30. Forse un dubbio dovrebbe venirci. Forse perché un conto è quanto costa il petrolio se lo vuole un barile e quanto ricavo quando l'ho frazionato in tanti pezzi. Questo non ce lo dice nessuno. Perché quando fai la domanda ti rispondono che questi sono dei segreti. Cioè, fatti i cazzi tuoi, detto in un altro modo. Allora, ricordiamoci un'altra cosa. Questi sono cazzi nostri. Perché qualcuno l'ha detto. Il petrolio che c'è sotto terra è roba nostra, è roba vostra. E quando lo Stato lo fa estrarre a qualcun altro, gli dà una concessione, glielo concede, gli fa un favore. Invece sembra che il favore ce lo fanno loro a noi. E infatti, è stato giustamente detto che le royalties, cioè la percentuale che ci pagano, è del 7% più un 3% di compensazione ambientale. Però, c'è un però, la franchigia sul primo estratto annuale, una cifra che varia tra il 50.000 e il 70.000 tonnellate per il petrolio e parecchie decine di milioni di metri cubi di gas, non si paga niente. Ecco perché il referendum gli sta di traverso. Perché il referendum ti permette di estrarre con tutta la calma del mondo. E se tu estrai con calma, stai sempre sotto soglia franchigia. E quindi non paghi una mazza. Bella, no? Basta estrarre con calma. Ma torniamo ai soldi. Forbes ogni anno fa la classifica delle 500 maggiori società quotate al mondo per fatturato. Delle prime 7, 6 sono petrolifere. Ma che caso! 6 su 7 sono petrolifere. Allora, secondo voi queste 6 su 7 non condizionano tutto quanto? Si fanno fare... Ma un emendamento è poca roba. Si fanno fare tutto. Si fanno fare la politica energetica. Allora, nello sblocca Italia, il cuore dello sblocca Italia qual era? Era numero 1 il petrolio è strategico, numero 2 bisogna fare gli inceneritori. Il resto era arafuffa. Allora, il gioco è iniziato prima, è iniziato con lo sblocca Italia. Quando le concessioni venivano date tutte da un unico ente, tutte le autorizzazioni da uno solo. Questa gente si porta avanti, ma è molto più avanti. Quando arriviamo noi a scoprirlo? Questi hanno già fatto tutti i loro piani prima. Quanto petrolio c'è qua, qua sotto? 700 milioni di barili. 700 milioni di barili vuol dire 21 miliardi al grezzo. Allora, per 21 miliardi, che cosa si può fare? Parigi va bene una messa. 21 miliardi quanto valgono? Valgono tantissimo. Però, attenzione, tutto questo meccanismo sfrutta una cosa. Sfrutta il fatto che comunque noi, il fossile, noi tutti ce l'abbiamo qua nella testa. È inevitabile, questo dobbiamo dircelo. Perché noi mettiamo la benzina nell'automobile, o mettiamo il gasolio nell'automobile, o mettiamo il GPL, che vengono tutti da qua e da tutti gli altri posti come questi. Vogliamo il riscaldamento e quindi usiamo il metano, che viene da posti come questo. Allora, attenzione, che questa gente ci potrebbe anche dire, tu ti lamenti tanto, ma io ti sto dando quello che tu vuoi, o quello di cui tu credi di avere bisogno. Perché il mondo è stato costruito sulla base del petrolio. Si chiamava oro nero, si chiama oro nero per un motivo, no? È stato costruito su questo. Questa società è una costruzione rigida, basata su quello che ha prodotto il maggior profitto nella storia del genere umano, il petrolio. Allora, voi capite quanta forza ci vuole per scardinare un meccanismo di questo tipo. E la forza non è solamente quella di 130 persone che stanno in Parlamento. Ricordatevelo, eh, che queste 130 persone non hanno la lampada di Aladino 1 per ciascuno. Queste 130 persone senza voi non sono niente. Quindi, noi ci aspettiamo che voi facciate la vostra parte con noi. E la prossima volta che qualcuno di voi sarà qui e io sarò lì sotto, sentirò le stesse precise cose. Perché è solo questo cambiamento di mentalità che ci permetterà di fare la differenza. Se no, ricordiamocelo, ci sarà sempre questa situazione. Avremo al governo, gente, che ha una maschera. Dietro questa maschera ci saranno gli amministratori delegati delle varie società petrolifere. Perché intorno al petrolio ruota tutto quanto. Quindi, voi stessi, fatevi un esame di coscienza. Quando è stato scoperto il petrolio in Basilicata, che si diceva che sarebbe diventato il Texas, ma sotto sotto eravate contenti? Meno male, meno male. Perché in alcuni la contentezza c'era. È diventata scontentezza quando si è visto che arrivava poco di questo. Allora, tutte le volte che noi barattiamo la nostra salute, il nostro territorio in cambio di questo, bisogna vedere quanto ci stiamo guadagnando. Perché, voi l'avete visto, il direttore dell'acquedotto pugliese ha detto quando prendiamo l'acqua dal pertusillo, oh, non sappiamo dove prenderla. Se vai troppo in basso ci sono i metalli pesanti. Se vai in alto ci sono gli idrocarburi, la prende in mezzo. Sì, ma in mezzo come lo trovi? Eh, sposti la cannuccia? Ricordate che il petrolio è nella stessa classe di cancerogenicità delle diossili. Il petrolio è cancerogeno, il petrolio è mutageno. A qualunque dosaggio. Non esiste un dosaggio soglia di sotto del quale, ma oggi non so come soglia, bevo un po' d'acqua col petrolio. C'ha quel gusticino, no? Lascia un po' qua, come l'acqua grizzante. No, ho sbagliato. Quando io ho chiesto all'amministratore delegato del Leni perché ci sono gli idrocarburi nel lago, sapete cosa mi ha risposto? Sono affioramenti naturali di petrolio. Come in Kuwait. Ma, uguale, pianto un tubo e schizza fuori il getto. Questa gente non ti dice che loro si sono inventati la reiniezione in pozzo profondo. C'è tutto il sottoprodotto che proprio non si riesce a vendere perché il petrolio è quasi come il maiale. Si avuta niente, tranne qualcosina. Quella roba lì è uno scarto tossico. Allora io ho fatto un barrisucchio nel sottosuolo e mi ha avanzata della roba, che faccio? La rimetto sotto, è geniale, no? Allora la domanda è, ma tutto quello che è stato reiniettato, dove è andato a finire? Perché il petrolio non è sottoterra come se fosse in un serbatoio. Il petrolio è mischiato con le rocce e con le sabbie. E bisogna spremerle, bisogna iniettare dei fluidi ad alta pressione e alta temperatura. E soprattutto è molto viscoso. Ricordatevi che qua questa cosa, questo danno ambientale, che poi è danno della salute, perché quando tu ti mangi la mela o la pera che ha il sapore di petrolio, perché succede anche questo, la domanda è per quanto tempo andrà avanti questa cosa? Cent'anni, mille anni? Potrebbe andare avanti secoli. Cioè la contaminazione da petrolio può andare avanti millenni. Il petrolio e i suoi derivati sono stabili. Sotto solo ci stanno milioni di anni, quindi questo danno è stato fatto ed è un danno che durerà milioni di anni. Per che cosa? Per 380-338 milioni all'anno. Ma di che? Allora, ultima cosa sul referendum. Sul referendum è stato detto, non vota no perché è irrilevante, oppure vota no perché si perdono posti di lavoro, dalla stessa versione. Allora, uno, si mettessero d'accordo con il loro cervello. Cioè non puoi dirmi che è irrelevante ma contemporaneamente dannoso, perché vuol dire che non hai neanche capito la tua strategia comunicativa. Questo referendum serve per mettere un po' di sabbia nell'ingranaggio, per mettere un paletto e dire basta con questa roba. E' ora di voltare pagina. E attenzione, siccome il fabbisogno nazionale di gas e di petrolio derivante dalle estrazioni entro le 12 miglia è dell'1,4% per il gas e dello 0,8% per il petrolio, stiamo parlando del nulla, del niente, questa gente deve smettere di raccontarci cazzo. La verità è, mettiamogli un po' di sabbia nell'ingranaggio, andiamo a votare, ma se non vi piace questa argomentazione, ricordatevi una cosa, nel momento in cui qualcuno, che è un pubblico ufficiale, si permette di dire a voi quello che dovete fare, la prima risposta deve essere tu a me non devi dire cosa faccio, al massimo sono io che lo dico a te. Tanto per cominciare mi hai detto di non andare e ci vado a sfregio, solo perché me l'hai detto. Poi oltretutto non è una questione di tifoseria, qua non c'è un partito da votare a tua squadra del cuore, è una cosa del tuo interesse personale, allora pensi che sia una cosa buona, è giusto che tu vada e dica sì, basta con queste trivellazioni entro le 12 miglia, se pensi che invece tante l'hanno venduta bene, vai comunque e dici no, voglio continuare, perché secondo me il petrolio italiano estratto dagli stranieri che te lo rivendono, perché la Totalfina Elf è una compagnia francese, sono tre compagnie francesi che si sono messe assieme, l'Ene è del 29-99, dello Stato e il resto è dei privati, allora se tu vuoi continuare con questo andazzo, almeno vai però, vai e firma per il tuo futuro, perché questa è la verità, questo referendum è una scelta del futuro, vogliamo continuare così, poi però non lamentiamoci, se invece vogliamo dire basta, è il momento di cominciare a dire basta, adesso alle amministrative, a rettenere un costituzionale, e quando si andrò a votare pure in quel momento lì, a casa tutti quanti.